Scusate, i coglioni per 5 anni agli altri non potremmo rompere il punto. E noi per venire qua, noi siamo senza lavoro. E allora qualcuno deve dire, Presidente, lei al giorno, vada vada, ci parliamo noi con loro. Era un atto politico preciso, di ribellione politica. Questa è opposizione per me, non mi vorrei dire che faccio una saniera. Io mi sono letto lo scatolo e altri non lo dicono. No, ma lascia. E occorre la propria. Qua stiamo parlando di persone in difficoltà. La dente si doveva fare, si doveva fare. Quello che è successo oggi è grave. Il Presidente che in barba a chi riuscita a giorno perché deve fare una verifica politica con la Lega che non è mai presente in mezzo. E come è stato lo cacchio? Non lo fate parlare. Voi non avete più di me la possibilità. Io non posso parlare che mi caccio in forma. Voi potete parlare. Non dovete farlo arrivare a chiudere il lavoro. Ma la prossima volta qua non deve esistere più la prossima volta. Noi ci siamo scucciati a venire sempre la prossima volta. Ma che ci maniamo la prossima volta? Non la prossima volta. Il problema è proprio questa cosa grave di oggi che è accaduto. È esattamente questa. Non sono le dimissioni di Mazzucchi. Là non dovete essere contenti di dimissioni. Perché ora passano 15 giorni che nessuno gestisce il lavoro. Ma infatti noi non siamo contatti a fatto di niente. Noi non siamo contatti a fatto di niente. che i soldi ci possono essere. Ma se questi insiduti là e scrivono le vostre politiche. Non ci sono niente di attacchi. Ma capiti il tema qual è? Tu puoi pure fare quello. Ma dettemi, io vedrete che lo farò. Ma dato la mano. Bene, il 16 lo farò io. Anche se lo sapete che non sono le problemi nel mio carattere. Ma il problema qual è? Che là su quelle scrivanie questi non lavorano. Quindi non è che non vi trovino a lavorare loro. Non lavorano nemmeno loro. Quindi io più di quello. Non è che posso andare là. Non mi siedo. Io lo saprei. Ma noi il 16...